Musica Migliaia di ragazzi stamani hanno invaso Piano San Gregorio nel luogo per trent'anni fa venne sua santità e lanciò l'anatema contro la mafia diversi gli striscioni che ogni rappresentanza scolastica ha voluto omaggiare per ricordare quell'evento a cui tanti di loro per la maggior parte non ha potuto assistere in quanto neanche è nata la manifestazione è iniziata con il saluto da parte dei rappresentanti della consulta studentesca agli alunni presenti, quindi Lino Di Mameli è seguito dalla bonda musicale del liceo classico Empedo che è una piccola esibizione con un mix di autori e musiche quindi ha portato il saluto della città al sindaco Miciche che ha risposto alla domanda dei presentatori sul traguardo che ha raggiunto la città come capitale della cultura 2025 quindi l'esibizione degli alunni dell'Istituto King di Favare che hanno eseguito verrà il giudizio di Dio e verrà un giorno poi il prefetto con i saluti istituzionali che ha risposto a una domanda sul coinvolgimento degli studenti nella lotta contro la mafia diversi quindi balletti ben musicati eseguiti da parte degli alunni Jesus Christ, You're My Life della scuola Guarino di Favare il balletto del Roncalli su una musica di Rama quindi il saluto del Vescovo Don Damiano molti di questi giovani non erano nati 30 anni fa e quindi li facciamo rivivere rivivere per modo di dire quel passaggio importante di Giovanni Paolo II qui in Sicilia ad Agrigento l'8 e 9 maggio del 1993 in quell'occasione ci fu la grande veglia allo stadio Esseneto e poi la mattina l'incontro con il Papa di cui impedremo di ricordare qualche sua parola e poi questo cammino verso il Tempio della Concordia Concordia che può diventare un po' la chiave delle relazioni delle relazioni concordi per camminare tutti verso il rispetto della vita verso una vita piena e bella si dà un bel messaggio e un percorso iniziato all'ora che è ancora attuale ancora vivo anzi, si deve ravvivare una giornata bella che sta vedendo tanti studenti di tutta la provincia a partecipare e a cui dare ma no, io come dico spesso non messaggi sterili ma rappresentazioni anche concrete di quello che si può e si deve fare per dare veramente una svolta a questa provincia nel senso ovviamente della legalità e di quell'impegno che San Giovanni Paolo II chiese alla Sicilia tanti anni fa Siamo qui con gli studenti della scuola secondaria di primo grado per ricordare questo evento che ha visto la presenza di Papa Giovanni Paolo II trent'anni fa ma soprattutto anche il grido contro la mafia che venne appunto pronunciato qui a Piano San Gregorio e per gli studenti che a quell'epoca non c'erano è anche un'occasione per conoscere un pezzo della storia recente di questo nostro paese e capire anche quali sono gli elementi da considerare per la loro formazione e per la loro crescita Il mondo della scuola oggi è presente in maniera massiccia Assolutamente sì e posso fare la presuntuosa e dire che grazie a Don Enzo siamo i protagonisti oggi il nostro Papa è riuscito ancora una volta a metterci tutti insieme quindi è bellissimo per me Come si svolgerà? Insomma, sta avendo parecchio successo la cosa, no? Eh sì, perché c'è un lavoro preparatorio che Don Enzo Sazio con l'equipe formativa ha fatto durante un paio di mesi con la consulta giovanile poi ci sono i nostri ragazzi che presenteranno e si sono occupati anche di aiutarci nell'organizzazione ci sono tutte le scuole della diocesi di Agrigento o almeno una rappresentanza per ogni scuola e ha 30 anni da... 30 anni fa e io a 16 anni ero qua come loro quindi fa una bella impressione vedere questa valle che si sta riempiendo e ricordiamo quel invito di Giovanni Paolo II il mondo convertitemi un giorno verrà il giudizio di Dio che tutto il mondo ha ripreso che tutto il mondo ha ripreso ieri c'è stato un incontro al Teatro Pirandello importantissimo e oggi ci sarà una marcia che sarà da Piazza Vittorio Emanuele fino in cattedrale con una celebrazione finale nel pomeriggio questa mattina invece ragazzi saranno una prima parte qua hanno preparato dei momenti dei balli tutta una serie di eventi che potranno fare da questo palco e poi ci sarà una marcia che terminerà al Tempio della Concordia dove ci sarà il saluto del nostro Vescovo proprio il Tempio della Concordia che è stato da Giovanni Paolo II ripreso come simbolo di pace e in questo momento anche dare questo tema della pace è importantissimo è stata una bellissima esperienza anche perché abbiamo voluto contribuire con le nostre voci a creare momenti di raccoglimento e di preghiera siamo molto lieti di essere qui di partecipare e in questo caso noi ragazzi del direttivo della consulta di presentare questo evento organizzato in collaborazione dalla consulta provinciale e dalla Sidi Ocesi di Agrigento siamo inoltre molto lieti del fatto che 44 scuole della provincia da Agrigento a Cammarata da Sciacca a Licata parteciperanno a questo evento un evento molto sentito per tutta la comunità agrigentina e non solo questa è una manifestazione organizzata dalla consulta e dalla Ciri Ocesi di Agrigento ed è in onore del trentesimo anniversario del discorso di San Giovanni Paolo II proprio qui a Agrigento alla Valle dei Tempi di Agrigento è non solo questo ma anche un'occasione per riunire tutti gli studenti della provincia per fare qualcosa di bello e per fare poi quella che è la camminata della legalità